buongiorno 11 11 2011 che bella data che bel giochetto di parole che si può fare o anche che bel giochetto di numeri in questo caso potremmo dire buongiorno per l'appunto oggi è l'11 11 2011 11 novembre 2011 è uno splendido venerdì autunnale ieri non ho fatto il video perché sono stato impegnato è stata una giornata abbastanza impegnativa e felicemente conclusa si al govinda noto ristorante nota congregazione hare krishna a milano è stata una serata molto piacevole molto in sintonia con i devoti di krishna e sono stati interessanti soprattutto le domande poste dal pubblico e la discussione che ho potuto avere a tavola con alcuni simpatizzanti e devoti del del movimento della congregazione hare krishna chiamiamola così chiamano così perché di fatto è una congregazione hare krishna e è emersa una situazione in particolare è sempre questa voglia che per fortuna c'è sempre nelle persone di capire di comprendere dio di identificare dio e per l'ennesima volta si ha la difficoltà a capire ad incontrare dio notato quando lo si vuole a tutti i costi identificare noi vorremmo ritrovare dio come oggetto capire in che modo si manifesta vorremmo sempre in qualche modo materializzarlo ma non ci si riesce perché semplicemente dio non appartiene anche la materia ma nello stesso tempo non appartiene appartiene a tutte proprio perché appartiene a tutto noi non riusciamo a identificarlo come forma giusto per usare un termine consentito vorremmo vorremmo oggettizzarlo ma non riusciamo perché lo vorremmo oggettizzare per poterlo in qualche modo identificare per poter in qualche modo dire è fatto così è fatto cosa a questa forma si rappresenta in questa situazione ecco ma proprio per capire dio dovremmo uscire dalla situazione materiale quindi non è possibile capirlo dal punto di vista oggettivo ha capito interpretato dal punto di vista spirituale quindi bisogna scorporare il punto di vista spirituale dal punto di vista materiale per poter poi capire dio per poterli poi nuovamente fondere insieme ecco questa è ancora la difficoltà che resta e credo una difficoltà che si manifesta un po in tutte le in tutti credo in tutte le religioni cioè questo tentativo di capire dio nella nella forma più che nella sostanza mentre va capito nella sostanza più che nella forma sicuramente mi ritroverò di nuovo con gli amici devoti aree krishna e sicuramente usciranno dei degli altri discorsi molto molto interessanti è stata una bella serata ho conosciuto nuova gente che aspetto sicuramente anche su youtube o nella pagina facebook e volevo per l'appunto rendervi partecipi di questa cosa ma soprattutto volevo invitarvi a partecipare alla congregazione aree krishna oppure magari a qualche altra congregazione religiosa che può riguardare magari il buddismo questo perché o se siete magari aree krishna buddhisti anche magari provare a avvicinarvi alla regione cattolica ma questo perché perché molto importante avere a mio avviso un quadro completo delle religioni oppure delle metodologie per poter capire dio perché dico questo perché la regione non è altro che un sentiero una strada che viene proposta per arrivare a una meta allora c'è chi preferisce prendere l'autostrada c'è chi preferisce fare la via emilia piuttosto che la via aurelia piuttosto che ne so altre 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 strade alternative invece dell'autostrada perché si trova meglio l'importante è arrivare alla meta cioè arrivare alla conoscenza di noi stessi e la conoscenza della nostra anima e la conoscenza di dio e l'importante percorrerla bene questa strada non percorrerla in maniera disperata percorrerla con disattenzione questo cosa vuol dire è che qualsiasi strada io decido di percorrere qualsiasi strada prenda devo percorrerla come si deve devo percorrerla con il veicolo giusto e qual è il veicolo giusto per percorrere la strada dell'evoluzione la strada della maturazione della realizzazione di se stessi e della personalità l'automobile il veicolo che abbiamo a disposizione è per percorrere questa strada è la coscienza c'è tramite la nostra coscienza noi riusciamo a percorrere questa strada e allora sintetizzando credo che la prima cosa importante sia capire di avere una coscienza prendere atto di avere una coscienza e con questa coscienza poi percorrere tutto il resto lo so che è una cosa sintetizzata troppo però il tempo su youtube per fare i video ovviamente quello che è ma possiamo sempre sintetizzarla meglio se ne avete voglia contattandoci e magari parlandone insieme non è difficile basta scrivere a evolutore chiocciola gmail.com potete dire la vostra poi il modo per dialogare insieme insomma quello non è un problema lo troviamo bene per oggi è tutto vi lascio alle vostre faccende le vostre cose alla vostra vita buone cose a tutti buona vita a ricordate evolutore chiocciola gmail.com per potermi contattare via mail oppure trovatemi sulla pagina facebook francesco bonomi e ci possiamo sentire anche attraverso la pagina facebook compatibilmente con i miei tempi a quando mi collego senza nessun problema ciao a tutti